Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone, tra qualche istante nel telegiornale andremo a parlare di inquinamento, di smog, perché Frosinone è ancora leader purtroppo in questa speciale classifica in Italia, vediamo qual è il piano di lega ambiente per abbatterlo, le preoccupazioni per i carceri di Cassino e Frosinone che restano sovraffollati, poi parleremo anche di un'operazione della polizia, dell'accoglienza dei migranti in provincia di Frosinone oggi partono, sono partiti e questa mattina i saldi, mentre in arrivo una brusco freddo quindi la colonina che si abbasserà ulteriormente a partire dalle prossime ore parleremo anche di sport, andremo a parlare di calcio, in particolare del mercato del Frosinone queste ed altre notizie tra poco nel nostro telegiornale, non mancateli, è la regia la casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel centro-sud che per il 98% dei casi sono limitati a tre giorni oggi la chirurgia della casa di cura Sant'Anna è richiestissima nel Lazio e anche nell'Italia meridionale l'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta analisi di laboratorio con referti pronti in giornata visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio casa di cura Sant'Anna, via Herold, Cassino telefono 0776 31 11 23 visita anche il nostro sito www.santannacassino.it www.santannacassino.it Pulizia, traslochi, impiantistica, trattamento cotto, ristrutturazione edili, giardinaggio in due parole, Consorzio Panda i migliori e più qualificati servizi ambientali e strutturali per enti pubblici, centri commerciali, supermercati, ipermercati, negozi, enti privati, condomini, appartamenti perché la qualità è una cosa seria perché la professionalità è una specie in via di estinzione Consorzio Panda, la risposta alle tue esigenze Benvenuti in nuovo appuntamento con l'informazione della provincia di Frosinone dunque apriamo questa edizione parlando di inquinamento lo smog è sempre più alle stelle la provincia di Frosinone si conferma purtroppo leader in Italia in questa speciale classifica occorre fare di tutto per abbattere le PM10 e allora andiamo ad ascoltare qual è il piano proposto dalle Gambiette sono 32 le città italiane che nel 2016 hanno superato la soglia del polveri sottili consentita per legge Frosinone, Torino e Milano sono in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia presentata da Lega Ambiente ed elaborata su dati ARPA l'associazione ambientalista ha così stilato un piano in dieci mosse per abbattere lo smog si inizia da un nuovo disegno degli spazi urbani con zone 30 in cui imporre limiti di velocità massima di 30 km orari oggi l'80% dello spazio pubblico, ricorda Lega Ambiente, è destinato alla carreggiata e al parcheggio mentre occorre ribaltare progressivamente questo rapporto favorendo lo spazio pedonale della relazione con panchine e tavolini del mercato dello scambio della relazione con panchine e tavolini del mercato dello scambio in cui far convivere tram e mezzi di locomozione diversi proprio su questo fronte l'esperienza delle città europee dimostra che si può arrivare ad avere numeri significativi di spostamenti ciclabili se si passa da una visione di piste ciclabili ad una rete che attraversa le città un altro passo è quello della mobilità a emissioni zero oggi è possibile muoversi ad emissioni quasi zero non solo a piedi o in bici ma anche con la trazione elettrica almeno per il 90% degli spostamenti quotidiani degli italiani per quanto riguarda il trasporto pubblico l'aumento della velocità si può ottenere attraverso strade dedicate e corsie preferenziali con interventi velocemente realizzabili e a basso costo per le amministrazioni comunali carceri sovraffollati preoccupano i dati di Frosinone Cassino ma anche di Viterbo, Regina Celi, Perugia, Civita Vecchia e Belletri un sovraffollamento sottolinea la CISL FNS di 871 detenuti considerando che sono 6.108 i detenuti reclusi nei 14 istituti del Lazio al 31 dicembre scorso rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di circa 5.237 preoccupa il sovraffollamento negli istituti di Cassino dove sono 88 in più i reclusi rispetto alla capienza regolamentare a Frosinone sono ben 102 in più a Viterbo 172 dove di frequente si stanno verificando criticità quali incendi o aggressioni ma problemi anche a Civita Vecchia e a Rebibbia dove il personale martedì scorso ha evitato che un cellulare entrasse in carcere il sovraffollamento ma in maniera breve e in maniera lieve si registra anche negli istituti di Latina e Rieti dove sono più 24 i detenuti rispetto a quelli previsti dal regolamento a proposito la Polizia di Stato non vuole abbassare la guardia denunciati due campani a Cassino è accaduto ieri quando con l'ausilio delle unità cinofili la Polizia ha intensificato i servizi antidroga e per il contrasto ai furti alle rapine in questa attività innanzitutto sono stati segnalati due cassinati di 27 e 18 anni per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale avevano infatti quasi 3 grammi di marijuana poi due di 43 e 35 anni due campani in trasferta nella città martire sono stati denunciati invece per tentato furto e ricettazione di una bicicletta tra l'altro avevano tentato in diverse zone della città di mettere a segno diversi furti che sono stati evitati anche grazie alla collaborazione tra Polizia e cittadini l'intuito investigativo ha portato dunque i poliziotti a bloccare i fuggitivi nella zona scalo di San Vittore e Rocca d'Evandro mentre erano in procinto di tornare nel capoluogo partenopeo dunque per loro è scattata la denuncia e ovviamente anche il foglio di via obbligatorio non potranno tornare per diversi anni nel comune di Cassino e in quello di San Vittore del Lazio bene ora invece parliamo dell'accoglienza per gli immigrati c'è davvero un sforzo notevole da parte del territorio della provincia di Frosinone che è testimoniato anche dai numeri in tema di accoglienza dei migranti la provincia di Frosinone nonostante le difficoltà sta svolgendo in pieno il proprio ruolo lo sottolinea in una nota il consigliere provinciale Danilo Magliocchetti dal sito dello SPRAR il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Ministero dell'Interno che è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo infatti è possibile rilevare che a novembre 2016 risultano finanziati in Italia 652 progetti affidati a 555 enti locali risultano così finanziati 26.012 posti nel Lazio sono 46 progetti per un totale di 4.442 posti di questi nove sono stati richiesti dai comuni della provincia di Frosinone Aquino, Arce, Atina, Cassino, Ferentino, Frosinone, San Giorgio Alliri Sora, Unione dei Comuni, Antica Terra di Lavoro per un totale di 433 posti questo significa che i sindaci della provincia di Frosinone sono tutti consapevoli della doverosa assistenza ai migranti e responsabilmente sono pronti a fare la loro parte ma che sia una parte dettata dalle comuni regole del buonsenso e non dalla matematica l'accoglienza ai migranti, secondo Magliocchetti non può essere regata da parte del Ministero dell'Interno ad una semplice equazione matematica 2,5 per ogni 1000 abitanti e i sindaci in questo caso dovrebbero solo uniformarsi ai numeri quello che può essere realizzabile in provincia di Milano ad esempio potrebbe non esserlo in provincia di Frosinone dove il contesto economico è completamente differente ecco perché andrebbe assolutamente cambiato il principio oggi l'inizio dei saldi invernali bisogna ovviamente stare sempre attenti alle truffe ci sono alcune raccomandazioni che è bene seguire innanzitutto lo sconto deve essere espresso in percentuale sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo di vendita precedente lo stesso sconto i negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l'utilizzo un prezzo più elevato sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta stessa consentire la prova dei capi non è un obbligo ma è sempre meglio provare l'articolo scelto ricordando che in assenza di difetti la possibilità di cambiare il capo il prodotto non è imposta dalla legge né durante i saldi né durante le vendite normali dunque è meglio chiedere è buona norma conservare sempre lo scontrino perché se un difetto si dovesse palesare dopo l'acquisto anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all'acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa una cosa importante è che la garanzia si può far valere entro due anni dall'acquisto dunque prestare attenzione agli scontrini di carta chimica che sviadiscono dopo qualche mese eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno la stagione dei saldi coincide però anche con la stagione probabilmente più fredda dell'anno sarà infatti quella di domani l'epifania più fredda dal 1985 già oggi la colonnina di mercurio è in rapida flessione su tutta la provincia di Frosinone la discesa delle temperature sarà ancora più marcata nel corso della giornata di domani dove Frosinone si toccherà anche quota zero le minime pur molto basse scenderanno ulteriormente nei giorni immediatamente successivi quando le correnti si saranno un po' calmate la massa d'aria gelida avrà trovato modo di dispositarsi al suolo nel corso del weekend il capologo Ciociaro arriverà anche a meno 7 all'alba di sabato con punte di meno 10 nell'Interland e nei centri del fondo valle latino peggio ancora in montagna con punte clamorose di meno 18 gradi a Campocatino ma anche meno 10 a Fiuggi e San Donato Val di Comino meno 11 ad esempio anche ad Arcinazzo Romano questi valori potranno essere oltretutto acuiti dall'effetto del vento forte nei giorni a seguire si assisterà ad una lenta e graduale ripresa i valori termici rimarranno comunque abbondantemente sotto la media del periodo per diversi giorni specie nei valori minimi all'alba infatti continuerà a fare un gran freddo fino ai primi giorni della settimana prossima a proposito di freddo proprio in vista del brusco abbassamento della temperatura annunciato per domani Aceato 5 rinnova l'invito ai propri utenti a proteggere dal gelo i contatori idrici almeno mediante coperture provvisorie si consiglia di utilizzare materiali isolanti i più adatti sono polistirolo e poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi dall'ambiente esterno possono essere utili nel caso in cui non si disponga di questi materiali anche materiali di scarto cantieristico purché non assorbenti l'umidità attenzione a non utilizzare giornali panni o stracci vari proprio perché questi ultimi assorbendo acqua e umidità rischiano di peggiorare la situazione è importante altresì proteggere le tubature all'aperto di entrata e uscita del contatore la corretta manutenzione e protezione di quest'ultimo è importante perché in occasione di repentini abbassamenti di temperatura si rischiano perdite o mancanza d'acqua all'utenza la società Ato 5 informa comunque che in caso di gero di eventi meteorologici avversi attiverà ogni misura preventiva possibile per limitare al massimo gli eventuali disagi a proposito di condutture idriche interventi a tempi di record sulla rete idrica comunale di Cassino grazie al lavoro degli organi istituzionali e allora ascoltiamo come è andata interventi in tempi record sulla rete idrica comunale di Cassino a darne notizia il consigliere comunale delegato alla manutenzione Franco Evangelista che è soddisfatto di quanto accaduto in tempi record infatti gli operai del settore hanno svolto tre interventi simultanei sulla rete idrica della città ripristinando il flusso in tutte le zone servite dall'acquedotto comunale l'ennesima dimostrazione sottolinea di come all'interno della pianta organica del comune di Cassino ci siano persone che svolgono un eccellente servizio per la collettività se il comune era stato purtroppo costretto ad interrompere il flusso idrico seppur per poche ore per la complessità degli interventi che non permetteva soluzioni alternative ora lo stesso comune sta programmando altri interventi per riqualificare la rete idrica di Cassino per rendere sempre meno frequenti rotture improvvise in grado di generare molto spesso criticità a cui non si può far fronte nell'immediato con relativi disagi per i cittadini che ne derivano ovviamente l'obiettivo dunque è quello di avere una buona e precisa manutenzione sulle condutture idriche per garantire un servizio migliore e soprattutto limitare la frequenza dei danni alla rete idrica Restiamo a Cassino già da due giorni il servizio trasfusionale domiciliare del Polo Sanitario D è sospeso a causa del trasferimento dell'unica unità infermieristica detta a denunciarlo Mario Abruzzese vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio una mancanza grave secondo Abruzzese in considerazione del fatto che ci sono circa 30 pazienti oncologici ed ematologici affetti da gravi anemie che hanno bisogno di essere trasfusi a domicilio perché hanno difficoltà a deambulare pertanto gli utenti sono costretti a recarsi presso il pronto soccorso per le eventuali trasfusioni da fare dunque non solo ulteriori costi per l'azienda ma anche innumerevoli disagi per i pazienti non deambulanti per i quali la trasfusione rappresenta un vero e proprio salvavita inoltre data la carenza del personale e la grandissima affluenza dei cittadini al pronto soccorso del Santa Scolastica anche il servizio di emergenza e urgenza rischia secondo Abruzzese quotidianamente di andare in tilt c'è dunque la richiesta ai vertici dell'AS della provincia di Frosinone che vengano messe subito in atto le dovute azioni per ripristinare immediatamente il servizio trasfusionale domiciliare parliamo ora delle comunità montane che come abbiamo detto nei giorni scorsi sono state trasformate arriva il parere favorevole a questa svolta da parte dell'UNCEM il presidente dell'UNCEM Lazio Bellucci plaude alla trasformazione delle comunità montane è quanto sottolina in un comunicato l'UNCEM Lazio ha detto si è battuta per dire la sua per offrire un contributo fattivo e competente nel momento delicatissimo della trasformazione degli enti montani la legge di stabilità pone fine così alla lunghissima fase di transizione dei destini delle comunità stesse se ne traccia un profilo definito, descrive con precisione il percorso da seguire garantisce un futuro ai territori che hanno bisogno di una governance dedicata e moderna soprattutto offre la possibilità di rilanciare la sfida dell'impegno speciale che si deve alleare dai bisogni speciali quali sono appunto quelle montane con la nuova normativa le comunità vengono trasformate in tempi certi in unione dei comuni montani queste ultime continueranno a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni cessate delle comunità fino alla completa trasformazione alla guida di loro ci saranno dei commissari straordinari liquidatori che saranno nominati entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge i commissari saranno gli attuali presidenti delle comunità stesse svolgeranno il loro compito a titolo gratuito si tratta, sottolinea ancora Bellucci, di un traguardo molto importante per il quale ci battiamo da tempo e che tiene conto del concetto di montanità che noi dell'UNCEM Lazio sosteniamo con forza la montagna è un brand preziosissimo che sconta dei problemi molto seri altrettanto particolari perché non sono comuni ai territori di pianura e costieri lasciamo le comunità montane e ora andiamo invece a parlare di sport in attesa di riprendere gli allenamenti di tornare a parlare di calcio giocato allenamenti che riprenderanno il prossimo 9 di gennaio la società del Frosinone Calcio è impegnata in questa sessione invernale del mercato di riparazione aperto da pochi giorni società comunque attivissima che sta per mettere a segno diversi colpi almeno tre sono in cantiere sembra davvero tutto fatto manca soltanto la firma e il comunicato ufficiale vediamo quali sono questi calciatori il mercato di riparazione è aperto da poche ore ma spicca la grande vitalità della società giallo-azzurra che vuole chiudere presto i colpi in entrata e regalare il prima possibile l'intera rosa a Marino la squadra tornerà a lavorare il prossimo 9 gennaio è il sogno quello di avere già alla città dello sport di Ferentino i volti nuovi che andranno a puntellare la rosa che dovrà poi affrontare la seconda parte della stagione quella decisiva gli obiettivi di mercato del Frosinone sono ormai noti e tutti vicinissimi l'attaccante belga congolese Benjamin Mokulu ha ormai raggiunto l'accordo per trasferirsi nel capoluogo Ciociaro e andrà a prendere il posto di Andrea Cocco che passerà a Lavellino facendo il percorso inverso uno scambio di attaccanti sull'asse campano-laziale per dare modo ad entrambi i calciatori di riscattare una prima parte di stagione al di sotto dell'attese Mokulu arriva in prestito con diritto di riscatto in caso di promozione nella massima serie l'attaccante dovrà comunque sgomitare per avere la meglio del duo composto da Daniel Ciofani e Federico Dionisi che da tempo ormai hanno il privilegio a suon di ottime prestazioni di mettere tutti in fila Cocco invece saluta i compagni l'attaccante fortemente voluto in estate da Marino non è riuscito ad imporsi preferendo andare a giocare altrove Frosino è attivissimo anche sul fronte del centrocampista con Maiello è ormai tutto fatto da tempo con gli accordi trovati in poche ore il calciatore attende soltanto il via libera di Empoli e Napoli per approdare maglia giallo-azzura dove spera di poter rilanciare una carriera che si è recentemente arenata proprio con la maglia azzura dei Toscani Maiello rappresenta un calciatore di assoluto livello in categoria capace di far fare il salto di qualità all'intero reparto canarino che si privirà di Robert Gucker l'Austro Ciociaro ha infatti le valigie pronte e deve decidere dove collocarsi avendo diverse richieste Lavellino lo sta corteggiando da tempo ma ci sono anche Vicenza e Perugia pronte ad abbracciarlo Gucker sembra al momento preferire Vicenza anche per essere più vicino a casa ma la decisione verrà presa soltanto nei prossimi giorni anche in difesa la società Ciociara vuole chiudere subito le operazioni nel mirino un tersino destro da affiancare a Matteo Ciofani vicinissimo il giovane Fiamozzi con il quale il Frosinone ha trovato l'accordo tutto fatto anche con il Genoa e dunque la chiusura della trattativa sembra essere davvero vicina in partenza Bertoncini sembrava tutto fatto per lui al Trapani invece non è così ma i colpi in entrata non potrebbero ma i colpi in entrata potrebbero non finire qui perché la società di via marittima resterà vigile fino al termine della sessione invernale in quest'ottica il nome più seguito da vicino è quello del difensore del Cagliari da agosto in prestito la Sampdoria Luca Krain il 22enne difensore sloveno sarebbe felice di trovare maggiore minutaggio in Ciociaria l'alternativa è Zuparic del Pescara già seguito anche in passato davvero tutto per la nostra informazione io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia grazie a tutti